Bella raga bentornati in questo mio primo video del canale che sarà un video anche abbastanza corto perché vi spiegherò come partecipare al contest che ho organizzato per la mia assenza che ci sarà da domenica sera quindi non ci sarà domenica sera la live fino a sabato sera infatti io sono in live raga tutte le sere dalle 9 alle 11 seguitemi ovviamente in live ci saranno live dove giocherò con voi e farò un sacco di cose con voi quindi non perdetevi queste live allora praticamente questo contest per partecipare a questo contest essendo come una statina in un sacco farò uscire ho fatto questo video apposta basterà è una cosa molto semplice mettere like a questo video che sto facendo mettete like poi dopo dovete iscrivervi al canale anche se in realtà tutti voi dovreste essere già iscritti al canale da un po' però vabbè iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti che io controllo ovviamente prima di decreterare il vincitore e niente basterà scrivere sotto i commenti di questo video semplicemente il vostro nome nel mio caso io scrivo Zerbian e poi scrivete partecipo partecipo al contest ok poi commentate come sto facendo ora io in questo momento anzi io adesso lo elimino perché non commento così a caso comunque fate commentare in questo modo e io sarò il vincitore del contest sabato sera quindi il giorno in cui tornerò dalla vacanza e niente ragazzi è un video molto veloce per spiegarlo e mi raccomando non perdetevi la live sabato sera che ci sarà bella ok 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 ok